mi avvalgo di tanti fornitori tanti professionisti e non solo per ogni settore ma diversi proprio perché ogni cliente ha le proprie richieste le proprie esigenze ogni evento deve essere organizzato dalla a alla z è confezionato in base ai bisogni e alle necessità del cliente quindi quando mi chiedete se voglio aumentare la lista dei miei fornitori rispondo assolutamente sì e vi chiedo di contattarmi per incontrarci avrò bisogno di tutte le vostre informazioni di cosa vi occupate nello specifico di testare personalmente il vostro prodotto servizio in modo da valutare poi se posso inserirvi nella mia lista e tenerlo in considerazione qualora si dovesse presentare una richiesta dove voi fate al caso mio sentiamoci io ci sono grazie a tutti